Sono quasi terminati i lavori di smantellamento della vecchia copertura in Lamiera alla pista di pattinaggio di Via del Brennero, che già dopo Pasqua tornerà agibile per gli allenamenti all'aperto. Il tetto della struttura, resalente agli anni Ottanta, è stato oggetto nel tempo di diversi interventi tampone fino allo scorso maggio, quando sono emersi prima problemi di staticità della copertura e poi di vulnerabilità sismica. L'amministrazione ha quindi deciso di intervenire con un investimento di circa 270.000 euro di risorse proprie, a cui si sono aggiunti altri 48.000 euro di finanziamento della regione toscana. La rimozione della copertura è in fase finale ormai, quindi la causa che aveva dichiarato la inagibilità della pista è stata eliminata. Dopo Pasqua, intorno alla metà del mese, la pista tornerà a disposizione delle associazioni come spazio all'aperto, illuminato che potrà consentire lo svolgimento dell'attività. Nel frattempo vanno avanti le pratiche, le gare e le procedure autorizzatorie per la nuova struttura, il nuovo impianto, che sarà un impianto chiuso d'inverno e aperto in estate, che contiamo di avere nell'autunno. La nuova tensostruttura sarà a forma di capanna e avvolgerà completamente l'impianto. Una volta redato il progetto esecutivo, l'amministrazione vorrebbe passare rapidamente alla fase di gara e avere la pista pronta e utilizzabile per la prossima stagione invernale.